Diabolic, primo cinecomic italiano girato da italiani del nuovo millennio. Sarà un successo? Scopriamolo prossimamente. Wabalabadabdabe, bentornati su una mamma mazzo, bentornati nella rubrica film in uscita e bentornati nella rubrica Diabolic. No, non ho una rubrica Diabolic. Quindi parlerò con voi di questo film come persona che conosce solo di fama questo eroe a fumetti, conosce la sua popolarità, la sua notorietà, la sua longevità nel panorama fumettistico ma anche di cultura pop italiano, ma non ne è un lettore. Quindi mi scuso se c'è qualche lettore che scopre questo canale per la prima volta prendete la mia recensione, le mie emozioni che mi ha dato questo film per quello che sono. Anzi, spero che questo film mi abbia incuriosito a tal punto da dare un'occhiata a altri fumetti di Diabolic perché qualche fumetto l'avevo letto ma non mi sentivo proprio in target forse per questo tipo di narrazione, per questo tipo di argomento giallo. Però, però, ho la possibilità di recuperare anche perché mi hanno regalato, ringrazio il mio amico Tias per questo regalo, un pacco enorme di fumetti di Diabolic che voglio recuperare. Stasera in live su Twitch lo spacchetteremo insieme, faremo l'unboxing. Tra l'altro trovate qua sotto in descrizione il link anche al mio canale Twitch e quindi stasera verso le 9 parleremo anche di questi fumetti che ho ricevuto. Vi faccio vedere un'anticipazione, ci sono anche questi. È un pacco bello grosso, quindi lo spacchetteremo insieme e chissà che per l'anno prossimo, per quando uscirà il nuovo film di Diabolic, io non sarò diventato un esperto perché magari avrò letto tutti questi fumetti. Ho già parlato del mio canale Twitch, se scoprite anche questo mio canale YouTube per la prima volta vi chiedo, se volete, di scrivervi, di mettere un bel mi piace a questo video, un non mi piace, di condividere il video con tutte le persone che conoscete e che amano Diabolic e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo film e di quanto, in un certo senso, siete esperti della materia, così magari potete aiutarmi a comprendere magari delle cose che io non ho visto. Questo film è un film dei Manetti Brothers che già all'epoca, già qualche anno fa, girarono un video musicale dei Tiro Mancino, Amore Impossibile, in cui portavano in scena una trasposizione in formato videoclip di Diabolic. Questa trasposizione è piaciuta così tanto che, diciamo, era un po' nell'aria il fatto che nessun altro poteva fare un film su Diabolic tranne i Manetti Brothers. Ora, ovviamente, un film su Diabolic c'era già stato ed è di Lamberto Bava. Non ricordo bene di che anno è, ma credo degli anni 70-80, ora non ricordo. Ricordo anche di averlo visto ma talmente tanto tempo fa che non vi saprei dare un giudizio. Dovrei, ecco, rivederlo e poi parlarne insieme. Cosa che potremmo fare nella rubrica Retro Movies, magari parleremo anche di questo Diabolic di Lamberto Bava. Questo Diabolic, appunto, per la regia dei Manetti Brothers ha una firma notevole di questi registi che hanno un metodo di regia particolare, di generi, fondamentalmente. Se voi avete visto quest'estate il mostro della cripta che è di Misischia, che è uno, diciamo, che è nato dalle costole dei Manetti Brothers, diciamo, un regista che ha lavorato con loro, ha imparato anche dal metodo Manetti Brothers, noterete che, appunto, c'è un certo stile di regia che viene mantenuto. Devo dire che qua i Manetti Brothers non hanno calcato la mano, non c'è una regia pesante, c'è una regia molto ampia, nel senso che non ci sono grosse firme autoriali. E devo dire che il film, comunque, è permeato di sensazioni che ti fanno vivere l'esperienza del fumetto di Diabolik. Per quei pochissimi fumetti di Diabolik che ho letto io si respira proprio l'aria che si respira sfogliando un fumetto di Diabolik. Nel bene e nel male c'è un'ambientazione anni Sessanta che è una scelta non scontata perché, per esempio, perché hanno scelto di ambientarlo negli anni Sessanta? Perché Diabolik è nato negli anni Sessanta. Ma allora, se così fosse, tutti i film di supereroi sarebbero dovuti ambientarsi negli anni Sessanta. Banalmente anche Spider-Man avrebbero potuto ambientarlo negli anni Sessanta. Però non è una scelta sempre vincente. Con Diabolik credo che questa sia una scelta decisamente vincente perché il sapore un po' retro di questo film può far immergere ancora di più nelle atmosfere da fumetto e può strizzare l'occhio anche ai fan di vecchia data, ai fan duri e puri di Diabolik. Dicevo nel bene e nel male perché secondo me anche c'è una sorta di regia un po' stile antico nel senso che c'è un po' di di vecchiaia, diciamo, che viene permeata in questo film a questa narrazione da fumetto di Diabolik che è anche il motivo per cui io non riesco tanto ad avvicinarmi a questa collana fumetti. Cioè è un tipo di narrazione che per come amo leggere io è un po' lenta. Per esempio io ho adorato il reboot di K di Diabolik che è basato su un format di comics americani. E devo dire che a un giorno di uscita da Spider-Man No Way Home è uno dei problemi più grossi secondo me che rischia di avere questo film. Le persone che escono magari dalla sala galvanizzate da un film privo di una forte trama come No Way Home ma ricco di emozioni e si fiondano in un film su Diabolik che invece ha una trama molto bene imbastita ma che può, diciamo, deficitare leggermente nell'intrattenimento perché appunto è un giallo a tutti gli effetti è un noir ma proprio perché è un noir a volte scade un po' nella lentezza rischia di non fare successo tra le persone che appunto non sono fan prettamente di questo personaggio. Parliamo un secondo dei protagonisti di questa pellicola il protagonista assoluto di Aboli che è Luca Martinelli al secolo Lo Zingaro di Lo Chiamavano Gig un attore ormai tra i migliori del panorama italiano quindi una scelta azzeccata anche da questo punto di vista sfruttare sia la sua bravura che la sua popolarità che non è una cosa scontata nel panorama attoriale italiano è molto coinvolto nel senso è proprio è integrato nella parte dell'uomo del mistero di questo Diaboli che ha voluto interpretare come lui stesso ha detto come una pantera che guarda una preda ma allo stesso tempo può risultare monocorde cioè questo suo stoicismo questa sua impassibilità di fronte agli eventi che lo circondano può davvero far sembrare la sua recitazione in monocorde e fortunatamente noi sappiamo che è un attore della Madonna che è proprio questa scelta che ha fatto che lo ha fatto recitare così e non è una sua mancanza di bravura però non è tra le cose più forti del film anzi, dato che il protagonista doveva essere magari un po' più incisivo seppur questo voleva dire allontanarsi un attimino da come è il personaggio nei fumetti io ho notato che i Manetti Brothers ci hanno tenuto tantissimo a essere uguali al fumetto a seguire in modo quasi paro paro l'ambientazione dei fumetti ed è un valore aggiunto nel panorama italiano perché spesso si fanno solo degli omaggi ma non si guardano i dettagli invece i Manetti Brothers hanno davvero guardato i dettagli dal logo che è rimasto invariato rispetto a quello dei fumetti se ci fate caso nei cinecomics americani questa cosa non succede creano un nuovo font per il film che si discosta dal font dei fumetti qua invece in Italia non lo facciamo otteniamo lo stesso font per far proprio dare lo stesso impatto che ha il font dei fumetti l'ambientazione di Clairville che è una città immaginaria che è stata girata tra varie città d'Italia è perfetta anche il fatto che nonostante il nome della città Clairville abbia delle vie italiane è coerente con il fumetto perché nonostante il fumetto appunto abbia delle ambientazioni fittizie con dei nomi francofoni o anglofoni ha comunque dei protagonisti che hanno dei nomi totalmente italiani e quindi anche quasi questo miscuglio di ambientazioni fittizie per nascondere un'ambientazione italiana è coerente al fumetto anche le stesse divise dei poliziotti sono precise esattamente come sono nel fumetto il look dei protagonisti dallo stesso Luca Marinelli che ha questa attaccatura come il personaggio di Diabolica nei fumetti e la stessa zazzera che ha l'ispettore Ginko la pipa lo chignon di Eva Kant sono tutti dettagli che non sono cosa da poco in un film italiano è brutto da dire ma non tutti sono attenti a queste cose come i Manetti Brothers ho parlato appunto degli altri personaggi ho detto di Diabolica l'ispettore Ginko interpretato da Mastra Andrea che mi è piaciuto molto ha faticato forse un pochino di più a nascondere la sua cadenza romana rispetto a Marinelli ma comunque una prova d'attore notevole Miriam Leone nella parte di Eva Kant credo che sia tra le migliori tra questi tre citati è quella che surclassa tutti come interpretazione anche nelle piccole sfaccettature nelle smorfie che fa quando percepisce una notizia quando interagisce con gli altri personaggi è stata forse l'interpretazione che mi è piaciuta di più poi forse sarò di parte perché Miriam Leone al mio occhio è bellissima quindi può essere che sia leggermente di parte ma se fosse stata una cagna a recitare me ne sarei accorto invece è brava come sempre come in altri film tra le parti minori una recitazione che mi è piaciuta tantissimo è stata Claudia Gerini che ha fatto un cameo avrà recitato per 5 minuti e ha steso tutti gli altri attori tranquillamente la Gerini è informissima hanno preso proprio la Gerini per fare questa piccola parte perché nel video musicale che ho citato all'inizio che vi metto qua in descrizione Claudia Gerini interpretava proprio Evacant ci sono appunto diversi comprimari in questo film e devo dire che sono la nota più dolente ce ne sono alcuni che sono bravi nel senso che riescono a reggere anche la parte minore e altri sono davvero un po' macchiettistici non so se è una scelta oppure no non l'ho capita questa cosa ma molti attori minori di contorno recitano con un forte accento c'è una guardia un questore non so cosa sia che ha un forte accento milanese e sembra davvero una macchietta è fastidiosissimo ce ne è un altro che ha un leggero accento non ho capito se veneto o comunque un accento del nord ho sentito un vago accento tra il romanaccio e il napoletano sulla guardia carceraria sul direttore del carcere che stava tenendo in ostaggio di Abolic in una scena particolare però allo stesso tempo molti altri attori invece recitano in dizione come per esempio i protagonisti quindi non riesco a capire la scelta dei Manetti Brothers di tenere gli accenti in alcuni attori piuttosto che in altri non lo so questa cosa non mi è piaciuta molto ma tra la recitazione degli attori comprimari non è quella che mi è piaciuta meno mi è piaciuta molto meno la scena di entrata in cui la recitazione di alcuni anziani diciamo che c'erano in questa scena di apertura fosse tranquillamente in dizione ma fosse davvero molto teatrale quella scena iniziale e la scena di dialogo tra i tre camerieri era davvero sembrava letta sembrava che stessero leggendo non c'era la minima enfasi anzi a onor del vero tra i tre camerieri quello che aveva un accento sul romagnolo se non sbaglio quello calvo era dei tre quello più bravo l'attore più bravo gli altri due davvero non mi sono piaciuti nemmeno un po' in quella particolare scena poi c'è il cameriere un po' più giovane che ha un po' più di screen time e lì vabbè per la parte che deve fare ci sta perché deve essere un po' monocorde pure lui però ecco in generale questi piccoli queste piccole scene di contorno che uniscono i tasselli sono il punto un po' più debole del film oltre alla narrazione che può essere vista come lenta da un pubblico che si affaccia al personaggio per la prima volta nota invece che mi è piaciuta molto a livello di regia è che a un certo punto quando ci sono delle scene di azione o delle scene di appunto di diciamo di furto di pianificazione del furto di spiegazione del colpo che Diabolik andrà a compiere ci sono delle scene alternate in cui Diabolik spiega il colpo e Diabolik che lo sta eseguendo per mostrarcele in contemporanea per non sembrare troppo ridondante la scena in cui lo schermo viene diviso esattamente come le tavole di un fumetto una scelta che in altri film io ho detestato per esempio nel look di Ang Lee questa cosa non mi era piaciuta neanche un po' qui invece la trovo azzeccatissima perché per il tipo di fumetto che è questo tipo di divisione dello schermo a omaggiare i fumetti rende davvero tanto quindi questa cosa mi ha entusiasmato mi è piaciuta c'è solo forse una cosetta che non mi è tornata molto a livello di trama ma francamente ci sono meno buchi di trama qui che in Spider-Man No Way Home quindi di cosa stiamo parlando vogliamo parlare di un film perfetto no assolutamente no quindi nel complesso mi è piaciuto vorrei sapere però anche l'opinione di una persona che divora Diabolik che adora Diabolik se è riuscita ad adorare questa esperienza oppure ne è rimasto deluso io per ora mi limito a ringraziarvi per avermi seguito per aver seguito la mia umile opinione di non esperto del personaggio ma appunto giusto da un occhio critico generico da lettore di fumetti nel frattempo io in edicola ho comprato comunque Il Diabolik di questo mese che ha inabbinata una sorta di intervista ai registi intervista alla Astorina la casa editrice su questo film quindi vi consiglio ho anche letto la storia che comunque mi è piaciuta diciamo che questa storia a differenza delle altre storie che ho letto un paio di mesi fa che non mi avevano fatto venire voglia di intraprendere la lettura del fumetto questa storia invece mi ha incuriosito quindi sicuramente quando scarterò questo pacco stasera sarò curioso di leggere di riprendere alcuni numeri sicuramente non tutti mi piaceranno però altrettanti potrebbero essere intriganti per me io vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video o a stasera in live sul sito Viola arrivederci a stasera a stasera a stasera a stasera a stasera a stasera